le code che scappano che sbandano sono un problema di tutti gli sciatori più aumenta la velocità più aumenta il grado di chiusura della curva più aumenta la pendenza e più questo problema si presenta andiamo a vedere un piccolo ma importantissimo segreto per poterlo risolvere alla redice abbiamo parlato nella puntata del vincolo di come appunto far tenere lo sci di come tirare sotto di noi gli sci rispetto a un tappetino che ci viene tirato via da sotto i piedi ma è molto importante rispetto alla tendenza delle code a scappare immaginare questo tappeto proprio sotto le code e già durante la fase di cambio fare in modo che le code assolutamente non si facciano sorprendere e quindi che siano loro in anticipo a tirare dentro verso la curva dentro al terreno in modo da appunto prevenire ogni possibile sbandamento azione da protrarre poi durante la curva in modo da assicurarci che le code stiano sempre in traiettoria senza nessuno nessuna derappata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti